Prosegue la caccia agli autori dello striscione della vergogna, quella parso a poche ore dal derby del basso Casentino tra Capolona Quarata e Subbiano. La scritta, che paragonava il paese di Subbiano a quello di Codogno, il comune Lombardo, in cui si accertò il primo caso Covid in Italia e diventato poi simbolo della prima fase della pandemia, era stata rimossa dai carabinieri prima del fischio d'inizio della partita, poi l'avvio immediato alle indagini. Da parte degli inquirenti c'è il massimo riservo, ma gli investigatori sarebbero sulle tracce degli autori dello striscione. Le indagini, sin da subito, si sono concentrate tra le fila dei supporter del Capolona Quarata. L'autore della scritta e chi poi ha fisso lo striscione rischiano una denuncia e il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Immediate erano arrivate le parole di condanna delle due società assieme ai rispettivi sindaci, alle quali avevano fatto poi eco quelle del presidente della Lega Nazionale dei Dilettanti Giancarlo Abete, che lo aveva definito un atto vergognoso. Nelle ultime ore sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Codogno, che ha invitato le due società nel suo paese per una partita dell'amicizia. Giovedì, infine, come ogni settimana, verrà pubblicato in gazzetta ufficiale il bollettino con le decisioni del giudice sportivo da capire adesso se ci sarà una sanzione o meno nei confronti del Capolona già in questa fase.